Ci aspettavamo che almeno a noi, ai sindaci dei due comuni, ai presidenti del Consiglio, fosse rivolto l'invito per questa trasferta romana. La nuova Pescara sarà realizzata, ma difficilmente le polemiche si placheranno. L'ultima in ordine di tempo, quella innescata da Ernesto De Vincenti e Sellucio Matricciani, rispettivamente presidenti del Consiglio Comunale di Montesilvano e Spoltore, i due comuni da sempre contrarre alla fusione con il capoluogo Pescara. Dopo il mancato invito a partecipare alla riunione organizzata dal senatore Luciano D'Alfonso a Roma, dove una delegazione, tra cui componenti del Consiglio Comunale di Pescara, ha incontrato il ministro dell'Interno Lamorgese per imprimere un'accelerazione al processo di fusione dei tre comuni. Nella lettera scritta a quattro mani nella giornata di ieri, De Vincenti e Sellucio Matricciani chiedono rispetto e chiarezza dopo che per anni si sono portati avanti delle commissioni, portando avanti discussioni per dare il giusto futuro anche ai cittadini di Montesilvano e Spoltore. Stavamo lavorando tutti insieme, fronte del sì e fronte del no, per realizzare una fusione meno complicata, che desse delle positività a tutte le realtà. Un incontro come quello di ieri a Roma poteva essere un motivo per migliorare la situazione. Mettere mano allo statuto che preveda delle municipalità ai due comuni più piccoli, oltre ad un posticipo della data, potrebbe essere un primo modo per ricucire lo strappo. Queste erano le trattative avviate ed erano a buon punto. E la nostra rimostranza nei confronti della giornata di ieri è solo per questo. Poi è chiaro che il rapporto si ricucirà. A cercare di spegnere le polemiche è proprio l'organizzatore dell'incontro, Luciano D'Alfonso, il quale tramite i social annuncia come quello di ieri è stato solo l'inizio di una serie di incontri che vogliono assicurare l'iter della nascita della nuova Pescara e che si susseguiranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.